Dopo tre giorni di carcere è tornato a casa Francesco Pezziniti. Il 77enne è arrestato venerdì scorso con l'accusa di aver ucciso il 54enne Stefano D'Arca. Al 77enne, finito in manette insieme al nipote 29enne Giuseppe Cortese, sono stati concessi infatti i domiciliari, mentre il giovane rimane ancora in carcere. Pezziniti è accusato in concorso col nipote dell'omicidio di D'Arca, ucciso a colpi di pistola 7,65 nella tarda serata dell'8 marzo scorso. Sembrerebbe al culmine di una lite scoppiata nel bar Moc, attività della famiglia Cortese. Secondo le ricostruzioni della squadra mobile del capoluogo, che ha indagato sul caso, sarebbe stato il giovane Giuseppe quella sera ad avere un alterco con D'Arca. E mentre la discussione con il D'Arca si spostò fuori dal bar, il giovane sarebbe andato poi a recuperare una pistola dal nonno, pistola risultata con matricola brasa. Le indagini, corroborate anche dalle dichiarazioni dello stesso Pezziniti, avrebbero portato però a ritenere che sia stato quest'ultimo ad esplodere i colpi mortali. Il 77enne avrebbe di fatti confessato l'omicidio agli inquirenti, elemento che fa sperare alla difesa dei due familiari che la situazione di Giuseppe possa essere rivista. Da quanto è stato poi raccontato dal nonno, infatti, il 29enne avrebbe sì puntato l'arma contro la vittima e quest'ultima avrebbe anche sfidato il giovane rinfacciandogli di non avere il coraggio di sparare. Ma a sparare sarebbe stato Pezziniti, afferrando l'arma dalle mani del ragazzo ed esplodendo sette colpi, di cui cinque attingeranno al petto la vittima che morirà poi in ospedale.